Giorgia Sottana Maggiore efficacia e le percentuali si alzano Quando arrivano tiri fuori ritmo per iniziative personali Le percentuali vanno in picchiata Macchi per Sottana Va dentro Sottana Altra palla per Mashadri Altra tripla La seconda nel giro di pochi istanti Per Raffaella Mashadri Più 16 schio Momento importantissimo della partita Perché